Allora invece facciamo la conoscenza con Laura Pugno di cui credo di aver letto la prima cosa diversi anni fa che non era propriamente sua ma era la traduzione di un racconto di Harry James, Il Giro di Vite. E non so, è come se leggendo poi le cose che ha scritto in seguito fosse rimasta questa impronta o magari era nei miei occhi di lettore, magari era nella narrativa che andava via via protoscendo Laura, in questo senso. Intanto questo è nella misura quello che si dice a scuola, un racconto lungo, un romanzo breve, quindi con delle sue regole molto precise. In più Laura Pugno nel gestire una materia narrativa sempre piuttosto originale di solito ci mette di fronte a due diverse prospettive fuse insieme. Una è quella che ci consente di seguire i personaggi nel mentre agiscono, che è sempre molto precisa. Voi vedrete che questi personaggi, chi lo ha letto lo ha visto, altrimenti basta proprio scorrere le prime pagine, fanno, come dire, vorrei usare una parola precisa, vivono delle situazioni estremamente concrete e fisiche. Si feriscono, si toccano, fanno l'amore, fanno pipì, fanno una serie di cose estremamente precise e tuttavia questo avviene in un contesto piuttosto indeterminato. Dobbiamo andare avanti con la lettura, accumulando via via una certa ansia di sapere e ci chiediamo continuamente da dove vengono questi personaggi, dove vanno, cosa passa per la loro testa. Quindi un estrema bilanciamento fra determinatezza e indeterminatezza. Poi, per esempio, Laura Pugno ci mette di fronte a degli oggetti, a degli eventi molto precisi. Per esempio la protagonista di questo romanzo incontra un sasso bianco lavorato dallo scorrere del fiume. E cominciamo nella nostra testa a riflettere tra l'entità di questo sasso e il carattere, per esempio, di questa protagonista. Uno è liscio, l'altra ha la pelle scabra per una malattia, per una dermatite e così via. E poi l'uno è piccolo e impenetrabile, l'altra è piccola ma estremamente fragile ed è a contatto con più realtà di quanta ne può sopportare la sua giovane vita o la vita di chiunque. non vi anticipo nulla, ha dei poteri che le danno la possibilità di scoprire qualcosa degli altri. Ha dei poteri che noi potremmo definire paranormali, non c'è un altro modo per definirli. E poi in realtà questo sasso diventa anche parte del racconto perché questo sasso consentirà alla protagonista di salvarsi. Verrà usato come un'arma. Allora viene un po' in mente quella famosa riflessione sull'arte del racconto di Chekhov che è della trammaturgia che se nel primo atto di un dramma un personaggio pianta un chiodo nel terzo atto su quel chiodo ci si dovrà impiccare. E quindi questo, come dire, alla fine la scrittura di Laura Pugno fa sì che il racconto si tenga perfettamente insieme i suoi elementi e li sviluppi in una parabola molto coerente. Laura Pugno. Allora ringrazio Stefano Petrocchi per queste osservazioni che mi sembrano molto esatte, molto puntuali e dico qualcosa in più sul libro. Mi pare che è capito che metà di voi l'ha letto e metà invece no. Sicuramente appunto la regola di trammaturgia, insomma annunciata da Stefano, di Chekhov e poi ripresa in mille altri modi nel, non so, nei manuali di sceneggiatura si dice che se in una scena di un film compare un fucile, quel fucile alla fine del film dovrà sparare. Insomma, mille modi in qualche modo nella storia sulla scrittura, se non nella storia ci si ricorda, ci ricordano che, come dire, è bene per uno scrittore attenersi in qualche modo all'essenzialità, insomma non inserire elementi inutoli e fuorvianti nei propri romanzi. Forse questo è anche il motivo per cui io mi attengo solitamente a una misura breve, insomma quando verrai saranno centinaia di pagine forse. È un romanzo di formazione, quindi ha in qualche modo l'iter classico di questo tipo di romanzo, ha una protagonista adolescente che attraversa la linea d'ombra, cioè la linea che ci divide dalla maturità, prendendo conoscenza di se stessa. Quindi l'antico motto greco è il conosci se stesso, in questo caso per Eva si applica la conoscenza di un potere particolare che non vi racconto, o che forse vi racconterò in seguito se emergerà le domande, ma diciamo che una particolare forma di lettura del futuro. Un potere con cui non è facile fare i conti, tanto più se ci si trova come lei in una situazione di assoluta marginalità sociale e familiare, insomma quindi si è particolarmente esposte, insomma, ai venti che soffiano. Per me, quando verrei un romanzo fantastico, ho sempre avuto una doppia corda reale e fantastica sin dai primi racconti che ho pubblicato in prosa nel 2002, racconti di Sleepwalking, che è poi uscito per Sironi, però paradossalmente per me in realtà rappresenta un po' un ritorno reale quasi, rispetto a Sirene, che è il mio primo libro che ha una connotazione molto più fantastica, quasi forse fantascientifica, quindi è curioso, io lo sento come un libro molto aderente alla realtà, quando poi in realtà la struttura del romanzo è basata su elementi che forse della realtà non fanno parte. Comunque chiudo qui la breve presentazione e lascio a questo punto il posto alle domande che vorrete fare a Silvio o a me. E volevo chiedere alla signora Laura Pugno, io ho letto il suo libro, e volevo sapere se in qualche cosa, qualche esperienza della sua vita, insomma, se qualcosa l'ha ispirata, perché comunque la parte reale può essere autobiografica, spero di nome, insomma. Fortunatamente no, cioè a me di tanto intanto fanno questa domanda che, considerato le cose che scrive, è abbastanza inquietante, insomma. A volte me l'hanno posta anche per sirene, in cui c'erano allevamenti in macelleria di sirene gestiti dalla mafia giapponese in un futuro imprecisato, quindi... No, fortunatamente io non faccio una narrativa autobiografica. e forse se c'è un'auto-ispirazione di tipo letterario, cioè io avevo scritto appunto nei racconti che ho citato prima, i Sleepwalking, un racconto che si intitolava Oasi, in cui c'era uno degli elementi narrativi forti di quando verrai, cioè la capacità di leggere in quel caso il passato, in questo caso il futuro, attraverso il contatto. Quindi sicuramente, come dire, un ricorso a materiali propri c'è, però fortunatamente non è un ricorso a materiali autobiografici. Volevo chiedere perché fa morire nel romanzo Ethan, che era l'unica persona che voleva bene ad Eva? Sembra quasi voler peggiorare ulteriormente la situazione della protagonista. Allora, diciamo, leggendo con attenzione il dialogo che quello succede in quando verrai, soprattutto leggendo a un certo punto il dialogo che quando Eva non è presente hanno gli adulti, cioè Ethan e Montserrat, si capisce che Ethan ha raccontato a Eva una serie di bugie sin dall'inizio perché in realtà lui sa benissimo che Eva sarà la causa della sua morte, che il motivo per cui il suo rapporto è così ambiguo è proprio quello che in qualche modo se Eva deve accettare il suo destino, che è quello di essere portatrice del suo potere, della sua capacità di leggere il futuro, anche Ethan deve accettare il destino che gli viene da Eva e quindi man mano lui in qualche modo, proprio perché impara a voler bene a questa bambina, accetta di morire, non casualmente, però accetta di morire per salvarla. insomma, e in qualche modo, come dire, portandola da Montserrat, dalla guadritrice, le consegna un'altra famiglia, cioè si capisce alla fine del libro, spero che si capisca perché da questa domanda mi viene il dubbio, che in qualche modo poi Eva avrà la possibilità, diciamo, di tornare a un'altra figura di mentore. Insomma, gli adulti che si muovono intorno a Eva vanno dal buono al cattivo, se vogliamo, però soprattutto passano attraverso una vasta gamma di gradi di ambiguità. Insomma, in qualche modo, Ethan, come anche per altri versi lei, la madre di Eva, è portatore di questa ambiguità, cioè un personaggio capace di fare il male, che però sceglie, a un certo punto del romanzo, di fare invece il bene.